Ecco, così dovrebbe andare. Sì, funziona! C-I-A-O, il mio nome mi servo a tutti. Ehi, no! Che succede? No! Perché te la prendi con me? È Angelina che ti ha fruzzata. E' spazzire l'incendio che tu hai causato. Attenzione, attenzione, sentiamo il virus. Uuuuh, salvato dall'allarme. Attenzione, attenzione! Hola, Meteo Heroes. Oggi per combattere il cambiamento climatico dobbiamo spegnere un grande incendio. Nella foresta amazonica, per la precisione. Ricopre molti paesi del Sud America. Gli incendi sono fuori controllo e dobbiamo fermarli prima che distruggano una parte così preziosa del nostro pianeta. Guardate come danza delle fiamme. Non sono stupende, ma guarda gli alberi che bruciano. Per questa missione serviranno Pluvia e... Fulme. Sì, si rivolta in sala. Veramente? Perché proprio lui fra Frida? C'è qualche problema, Pluvia? Conto su voi due. Dovete imparare a lavorare insieme. Siete pronti, Meteo Heroes? Sì, sono nato, Dunque. Tu pervergita! Ai, 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 ai! Guarda dove vai! Oh! Scusami, l'acca secco! Ma che cominciamo? Bene. Tu pervergita! Come stavo dicendo, la destinazione è in morenza giudiana alasomica. Vai per me, c'è un vento! Mi piace, è un... E cosa? Dillo e basta! Prossima volta, dimmi, se perdo su una roccia o su un po' padrillo! Cosa? Ecco le incendie! Il punto migliore per iniziare a tomare le fiamme è... Da questa parte! Ho detto... Da questa parte! E allora spiegami perché da quelle parti, Pluvia? Perché questo è il punto perfetto, è il punto buono! Prossima, brucia, brucia, brucia! Scusami, per te cavoli! Credevo che il fuono fosse il punto debole del fuoco! Allora, stai più attento! Ora pioggia! Può iniziare a scadere l'illuvio! Prossima! Fu troppo pesante! Ci serve un carrello elevatore! Un carrello elevatore? Mi è venuta un'idea! Scusa se ci ho messo tanto! Trova poco pratico sull'oceano! C-T-A-O Il mio nome è Mr. Roku Quel coccodrillo si è appena mangiato Mr. Roku! E ora sputa poco! Che sia un drago mascherato! Niente paura, meteoros! Quel coccodrillo non può ne parvi le pare! Piku ha appena tradotto quel verso! Significa che c'è un pericolo in arrivo! I maculans! Sono loro che stanno arricchendo la retta! Ci penso io! Con il culpile! Spetti la burla del selvaggio del riscaldamento globale! Eh, allora mi sto liberando di quei maculans! Non vedi? Proprio la testa dura! E tu che ne rompi scappi! No! Io sono la pioggia battente! Antin! Avanti, fulmine! Fiozza battente! Fulmine! Fiozza battente! Fulmine! Fiozza battente! Fulmine! Fiozza battente! Ecco perché Proprita ha sbagliato a scegliere te per questo... Attimo, cosa? E ce li aspetto! Mi viene cappato! No, no, no! Non sopporto tutto questo per te! Che si ne ha fatto quel magnifico incendio che volevo ammirare? Voi, inquinenti! È tutta colpa vostra! Smocchiato è subito via! Porgiamo una barra al quadra! Dovremmo litigare più spesso! No, fulmine! Se aveste collaborato fin dall'inizio avreste spento l'incendio in pochi secondi! Ma avete guadagnato punti salvando quel cuccadino? Vieni, a te per il momento del selfie! Perfetto, Matteo Heroes! Avete imparato qualcosa sul lavoro di squadra e molto su quanto il fuoco possa essere pericoloso per le nostre meravigliose foreste! Ehi! Cosa ho appena detto? Vieni, a te per il momento!